Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 22 aprile, sono le 10.08 e ho poco tempo per fare questa rapida analisi e aggiornamento soprattutto rispetto all'apertura che abbiamo avuto. Prima un rialzo fortissimo su DAX che ci ha portato fino alla media mobile a 200 periodi, poi discesa. Discesa che peraltro il Tecnica 2 aveva visto, ma per una distrazione mia e per il fatto che c'erano altre cose a cui stavo facendo attenzione, purtroppo non siamo riusciti a prendere tutto questo ottimo short sia su Mib peraltro che pure su DAX, con una candela verde che si è svuotata e che ci ha riportato pesantemente verso il basso. Perché però su Mib soprattutto è stata così forte? Per il fatto che oggi abbiamo uno stacco di dividendi talmente grosso che pesa per l'uno e mezzo sul nostro indice. Quindi attenzione perché appunto dato che abbiamo avuto questo stacco gigantesco di un sacco di dividendi, bisogna fare attenzione al fatto che diventa più utile fare trading e guardare bene se ci sono violazioni o meno di appunto T-3 anche soltanto su per effetto dello stacco di dividendi e quindi andare a vedere su Future che cosa è successo e qui aggiungiamo stacco dividendi. Stacco 1,5% dividendi. Ok? Questa è una cosa che è fastidiosa e che capita tutti gli anni in questo periodo, quindi la risegnalo su Mib in modo che anche chi non è pratico effettivamente possa darci un'occhiata. Noi dopo purtroppo questo scivolone stiamo cercando di vedere appunto se ci dà un tecnica 2 long o che cosa. Anche perché se su Mib il grafico non rispetta esattamente una centratura esente dall'effetto dividendi dovremmo quindi lavorare di più su DAX che invece funziona bene dove tra l'altro alcuni di voi mi hanno raccontato una cosa interessante che forse mi era sfuggita tra le cose che potevano succedere. Sì, bravissimi, assolutamente vero. Qui può esserci stato un raccordo di grado T-1 tra un mensile e un mensile. Facciamo però attenzione a una cosa, vera questa cosa, assolutamente, ma, e dopo il ma come di consueto altre cose interessanti, ma noi stiamo in chiusura comunque di un T-3. E a meno che non si faccia un ciclo trimestrale più un semestrale a tre tempi di T-2, uno, due, raccordo tra dei T-2 e poi di nuovo altro mensile che scende, questo può essere un raccordo, ma, in questo momento, se devo andare a vedere dopo questo forte rimbalzo che cosa ci racconta il grafico, rimarrei su un discorso di quarto T settimanale e bisognerà capire appunto se avranno voglia di fare che cosa. Tante cose. Allora, la prima è, qui abbiamo avuto con 39 barre la chiusura del quinto T-3 inverso, avevamo un dubbio, direi che possiamo ritenerlo praticamente sparito, quindi qui possiamo fare sesto T-3i, ok. Quasi per il fatto che abbiamo solo 4 barre sotto un massimo, certo che se si dovesse tornare sui massimi assoluto sarebbe una prova di forza prima della quinta barra sotto il massimo, veramente notevole. E noi, sfuggite alla prima golosissima e favolosa operazione che potevamo fare di oggi, siamo già a caccia ovviamente della seconda perché è giusto ammettere una svista e un errore, ma non bisogna lasciarsi demoralizzare dalla cosa e fa parte del gioco di un trader, fermarsi e dire ok, perso è perso, non ho la possibilità di tornare indietro nel tempo anche soltanto di un'ora e un quarto per fare l'operazione, adesso che cosa faccio? Altrimenti ci si demoralizza e non serve più a nulla, non si combina più nulla nel resto della giornata. Per questo motivo appunto, vediamo se visto orientativamente una valida accentatura di inverso, abbiamo avuto la chiusura del terzo t-3 ciclo giornaliero qui, da qui è partito il quarto e vediamo che cosa ci darà appunto il tecnica 2, se ci darà un rimbalzo per la partenza di che cosa su DAX? Per l'inizio di un secondo t-4 che potrebbe riportarci su per chiudere un settimanale inverso e tornare a scendere ancora per chiudere appunto il quarto t-3 vincolato ribasso a meno di raccordi, oppure che cosa? Perché se da qui non sarà partito il quarto t-3, qui direi che abbiamo tutte le caratteristiche per una chiusura serena appunto di quarte, quindi in ogni caso a noi non interessa, allora sì, ci sarebbe più utile avere ancora di più la facoltà di comprendere da dove è partito il quarto t-3, tra l'altro adesso andrò a controllare perché avevo una tecnica e adesso me la riguarderò bene, ok? Nella realtà dei fatti a noi interessa più che altro, interessa tra virgolette poco se sia partito da qui o se sia per partire da qui, per il fatto che in ogni caso avevamo spinta almeno per un t-4, qui se fosse partito da qui il quarto t-3, da qui il secondo t-4 con la possibilità che vi raccontavo prima, se invece partito partirà da qui, inizierà da qui il quarto t-3 potremmo avere spinta, certo guarderemo anche a livello degli algoritmi, ai livelli dell'algoritmo e in base a quelli vedremo che cosa hanno voglia di fare. Questo per quanto riguarda DAX con analisi ciclica evoluta, ricordo sempre sul primo canale di analisi ciclica evoluta e di analisi ciclica in Italia con oltre 16.500 iscritti e oltre 3.000 video in cui mi metto in gioco e racconto che cosa può succedere appunto sui mercati finanziari, sulle cripto e su valute e su quant'altro. Per quanto riguarda il MIB, attenzione a non guardare appunto questo grafico, bisogna vedere se hanno voglia di invertire e se ce la faranno ad invertire, è iniziata la nuova candela, quindi facciamo attenzione alle ultime due cose, calendario economico nulla di rilevante fino alla chiusura appunto delle 17.30 dei mercati europei con il discorso del Presidente della BCE e della Lagarde, quindi siamo tranquilli, domani sarà un po' più piena e un po' più nutrita anche la mattina alle 9.30 la nostra line up di dati e di notizie. Vi ringrazio per il vostro ascolto, vi ringrazio per il vostro tempo, se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like al video in modo da indicizzarlo meglio e segnalate a tutti questo canale dove non diamo opinioni ma dove ragioniamo di che cosa sta succedendo con un metodo statistico-matematico che avrebbe pagato estremamente bene con questo short. Ancora buona giornata a tutti!